All'estate, il governo è curato dal... Viti, curato dal... Io ti porto qua vicino al podio perché penso che devi salire sopra questa posizione numero uno in quanto già un primo vincitore di curare del comune per il comune di... Non abbiamo potuto stare a tocco in realtà di incantino tempo con tanta presenza si pare che siamo già quasi al 400 partecipati in una giornata come questa ci sta già generamente più vicinosa, ma più che più vicinosa ai tuoi e quello che sta a comprare ai partecipanti al conflitto vanno ancora meglio quindi grazie a tutti, grazie agli amministratori e un grazie sentito al Presidente del Consiglio se non c'è anche il parcheggio ci stanno ascoltarciate la TIN, la Procidone, la Casetta, la Salerno quindi sbagliate, tanto che è la cosa che più interessa a noi per far conoscere ancora e sempre di più è un piacere veramente averli grazie, grazie a voi grazie a voi